La marcia turca con le variazioni nel ritmo della mano sinistra. Detto in questa maniera sembra che la cosa sia più complicata del previsto, in realtà vuol dire semplicemente una piccola differenza nel modo di suonare la mano sinistra rispetto al modo in cui è scritto nel fascicolo di Aaron. Non è detto che questa sia una facilitazione per chiunque, perché suonare uno strumento non comporta la stessa difficoltà per tutti, o perlomeno non è detto che un brano sia difficile allo stesso modo per persone diverse. C'è chi trova molto semplice suonare alcuni brani che per qualcun altro invece sono più difficili o viceversa. Le mani non sono uguali per tutti, chi ha la mano più larga o più stretta, con le dita più lunghe o più corte, quindi ci sono tanti modi diversi per suonare e ovviamente ognuno ha il suo modo personale. Quindi dal mio punto di vista, quindi io propongo semplicemente una piccola variazione, ciascuno può vedere se effettivamente risulta una facilitazione oppure no. Qual è il problema secondo me, cioè che rende questa mano sinistra un pochino più difficile da suonare? Il fatto è che ci siano molte pause, quindi la mano sinistra è costretta a fermarsi e ripartire, fermarsi e ripartire in continuazione. Oltretutto nel momento in cui c'è la massima intensità sulla prima nota di ogni battuta della mano destra, la mano sinistra anziché partecipare a questa intensità deve stare in silenzio. Non sono convinto che questa sia una soluzione molto semplice, ma è soltanto un'opinione. Quindi che cosa dobbiamo pensare anche, tra l'altro, che questo brano è stato scritto da Beethoven per orchestra. Quindi cosa vuol dire? Che c'è stato qualcuno che ha pensato di sfoltire un po' di note, di togliere un po' di note, di rimpicciolire questo brano per poterlo suonare solo con un pianoforte, anziché con tutta un'orchestra al completo. Ci sono tante persone che hanno fatto questo stesso lavoro, ognuno con un risultato diverso, perché ognuno aveva il suo modo di pensare questo brano. Girando in internet si trovano molte versioni per pianoforte di questa marcia turca. E qui, per esempio, ce n'è una, sempre trovata in internet, scritta da un'altra persona. Mentre questo arrangiamento è curato, è stato scritto da Aaron, che è quello che ha fatto questi libri, questo arrangiamento è stato fatto e scritto da un'altra persona. Cosa c'è di diverso? che qui la mano sinistra non ha tutte queste pause. La mano sinistra inizia a suonare, vediamo che anche la destra ha comunque le stesse acciaccature anche qui, la mano sinistra inizia a suonare all'inizio della battuta, non è costretta a fermarsi in continuazione. Le pause sì, ci sono, ma in tutta una pagina così lunga, di pausa ce ne sono due in tutto. Per il resto, la mano sinistra, una volta che è partita, poi continua a suonare. Allora, qual è la variazione che possiamo applicare qui a questo brano? Semplicemente eliminare questa pausa e, al posto della pausa, suonare questa nota e, anziché fare due volte questo e questo, farlo tre volte. In questa maniera la battuta si riempie. Io quindi non suono pausa sol si re si re, ma sol si re si re, e la battuta è completa. Nella seconda battuta ripeto esattamente la stessa cosa, così nella terza e nella quarta. Anche nel rigo successivo, anche qui ci sono due pause, ma non importa. Vado avanti, suono sol si re si re si re. Qua la mano si sposta e seguo lo stesso sistema. C'è una pausa qui, al posto della pausa continuo a suonare le note che sto suonando prima. Mi sol si sol si sol si. Passo al rigo successivo, la stessa cosa. Mi sol si sol si sol si, qui la mano si sposta di nuovo, re fa la fa la fa la, ricordando che il fa è diesis. Qui mi comporto in un modo un pochino diverso. Io vedo che la mano destra ripete a due a due le note che fa. Qui abbiamo la fa diesis e poi la fa diesis. Lascio perdere per un attimo l'acciaccatura, che comunque è sempre uguale. La fa diesis, la fa diesis, e nella battuta successiva di nuovo ripete le note a due per volta. Si sol si sol. E allora faccio fare anche alla mano sinistra la stessa cosa. Non più una volta soltanto re fa la, ma re al posto della pausa fa la. Di nuovo re e di nuovo fa la. Qui faccio la stessa cosa. Senza pausa. Anticipo il sol. Sol si re, sol si re. E' sicuramente più facile a farsi che non a pensarci. Allora, intanto, le prime otto battute della mano sinistra da sola. Quindi niente pausa e la mano sinistra prosegue sempre a diritto. E fin qui. Quindi tutto uguale. Arriva il punto in cui la mano si muove un po' e dove metto in pratica questa ripetizione, imitando la ripetizione che fa anche la mano destra. Poi, per il quarto rigo, a questo punto abituati, avendone già fatti altri tre in precedenza, la soluzione è molto semplice. Mi ricordo che l'ultima nota in questa penultima battuta è un po' diversa. Non c'è più si re, si re, ma si re, do re. E questa variazione la mantengo. Quindi, ripartendo dall'inizio del rigo. E qui c'è l'unica battuta che ho fatto, effettivamente. Mi sembrava carino concludere con la mano destra prima e questa piccola eco della mano sinistra dopo. Se io ora suono le due mani insieme per la destra, suono esattamente la stessa cosa che ho fatto prima, cioè la parte scritta così com'è. Nella sinistra metto in pratica queste variazioni. Grazie. Grazie. Grazie.